Il sogno del giovane Soma è di poter diventare un cuoco eccezionale e superare suo padre. Per questo accetta la sfida del genitore e si iscrive ad una scuola culinaria tanto prestigiosa quanto difficoltosa e severa. Riuscirà nel suo intento. In contemporanea con il Giappone e in versione originale sottotitolata, la serie animata rivelazione della stagione. Food Wars, battaglie culinarie. Ogni lunedì ore 22.45 solo su Manga. Sky, canale 149.